Non male In questa mercatina è entrato un prete ortodosso grossissimo che ha giocato a questo gioco, 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 gioco Rosolare uno specchio d'aglio con mezzo bicchiere d'olio aggiungere un peperoncino forte, un etto di acciuglie tostate e prezzemolo tritato Ok, prepariamoci ad uscire Grazie a tutti Comunque qui c'è scritto che l'area è sottoposta a videosorveglianza ma in realtà la videosorveglianza siamo noi La videosorveglianza si siamo noi Grazie a tutti Non hai il coso davanti alla tua camera? No, un po' sì Aspetta Mi temi via, io mi sveglio Qual è la differenza tra specchio e specchiere La che era e tra scrittoio e scrivania Una lattina della Coca Cola E dentro alla fine c'era sempre La pellicola con la grana Allora desidero raccontare la storia di questo nome Lui è nato alla fine Mia nonna tu si richiamava Chiappa Puer E succedesse a casa di Berkeste, Noanda, Torino Cioè a Chiappa Polvere Inizia mi si era sosprire Ogni anno puntualmente la tale c'era qualcuno che gli era regalato di lavandai a Bertolla.